Lo che fai, per favore? Sei tu? Sì. Le stanze sono al secondo piano. Dentro troverete tutto quello che vi occorre. Proprio qua dovevamo venire. In fondo per noi è un po' come cercare casa. Siamo morti. Né morti né vivi. Cioè... Non sono riuscita neanche a morire. Sfigato fino alla fine. È di Miglia Fiore il corpo ritrovato questa mattina davanti al Grand Hotel. L'ex campionessa di ginnastica artistica. Mi avete dato una settimana. Sono passate solo poche ore. Un po' di pazienza. Questa metti la via, Rihanna? Secondo te il tipo arriva se lo stai per fare o basta che ci pensi? Lo so, vedere la vita senza di noi è doloroso sempre. Forse è questo che ci salverà la vita. Donerà a bere un buon caffè. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.